Vorrei spiegarvi come funziona la nostra apparecchiatura antica, distribuita dalla ditta NUG. È un'apparecchiatura che serve per fare in modo di avere un'ottima acqua per uso alimentare, per bere, per cucinare, per tutti gli usi alimentari e domestici e, quello che è più importante, per evitare tutte le forme di incrostazione che si possono verificare nei nostri impianti. Per impianti che cosa intendiamo? La caldaia, l'impianto dell'acqua calda, la lavatrice, la lavastoviglie, praticamente tutti gli elettrodomestici che vengono usurati dal calcare. Come vedete questo impianto è molto molto semplice. L'ultimo modello che abbiamo fatto va installato possibilmente dopo il contatore generale dell'acqua. Diciamo chi ce l'ha in cantina, chi ce l'ha in garage oppure può essere anche sotto il livello di una cucina o in un bagno. L'installazione è una cosa molto molto semplice che un qualsiasi idraulico, che se ne intendo un pochino, può fare tranquillamente. L'apparecchio è dotato di diverse parti, vedete. La prima è questa ed è un filtro meccanico attraverso il quale passa tutta l'acqua e questa cartuccia diventerà nera e va sostituita ogni 90 giorni. Questa cartuccia serve per fermare quelle impurità che ci sono nella rete idrica cittadina e che spesso e volentieri ci troviamo in casa, magari quando facciamo bollire la pasta o quando mettiamo in funzione la lavatrice, invece di tirare fuori i panni belli, bianchi e puliti, ce li troviamo tutti sporchi. Con questo filtro evitiamo questo problema. Poi l'acqua passa attraverso il nostro cilindro, che questo è praticamente la parte meccanica dell'impianto. Cioè tutta l'acqua passa in questo cilindro e qui all'interno viene trattata. Viene trattata con i comandi che dà la nostra centralina. Cioè che cosa succede? Il calcio da cristallino viene ridotto in polvere, poi viene cambiato di polarità per cui l'acqua entra di segno positivo e se di segno negativo va in tutto quanto l'impianto di casa. Siccome tutti i nostri elettrodomestici, i nostri impianti, le nostre caldaie hanno una carica elettrica negativa, due segni uguali non si attraggono ma si respingono. Praticamente è l'uomo di coloro. Senza alterare le proprietà organolettiche dell'acqua, noi abbiamo risolto tutti quanti i problemi con l'unica manutenzione di cambiare questa cartuccia una volta ogni 90 giorni. Ma il cuore, diciamo, di questo impianto che cos'è? E' la parte elettronica. Ebbene, qui c'è un piccolo computer che ci segnala tutto quello che fa l'apparecchio. Noi andiamo adesso ad accenderlo. Vedete? Voi sentite un fischio. Vuol dire che l'apparecchio si è acceso. Che cosa succede? In questo display la prima cosa che esce è il numero di telefono. Perché questo è un numero che vi dà la possibilità, oggi o tra dieci anni, tra vent'anni, essendo l'impianto garantito a vita, se c'è qualche problema di poterci rintracciare, oltre ai numeri che ci sono sopra le varie parti dell'impianto. Poi noi andremo a spingere il tasto A, il primo tasto, e l'apparecchio che cosa ci dice? Ci dice la durezza dell'acqua, cioè la qualità dell'acqua che noi abbiamo nella nostra abitazione, nella nostra casa. Nella parte sinistra ci dirà la durezza, nella parte destra ci dirà come funziona l'impianto. Andiamo a spingere di nuovo questo tasto, vedete? Così il tasto A, e ci dirà tra quanto tempo dovremo cambiare la cartuccia. Noi diciamo ogni 90 giorni, lo vedremo visivamente praticamente, ma lo vedremo segnato anche nell'impianto. Andiamo ancora a spingere l'altro tasto e ci dirà pulizia impianto. Cioè che cosa vuol dire pulizia impianto? Vuol dire che se per caso avessimo dei problemi nella nostra rete idrica, l'apparecchio ce lo segnala e voi avrete già un kit fornito in casa attraverso il quale fare la pulizia dell'impianto. Tutto questa attrezzatura è costruita in acciaio AISI 304, è completamente indistruttibile ed è completamente coperto da garanzia a vita. La garanzia a vita si intende sia per cause naturali, cioè un alluvione, un terremoto, un guasto, un cortocircuito, sia per cause normali che possono succedere perché l'unica cosa che si può deteriorare in questo impianto praticamente è la parte elettronica, cioè la parte elettrica, che viene tra un anno, dieci anni, vent'anni, trent'anni, se voi siete sempre seguiti dalla nostra organizzazione, è cambiata gratuitamente. Io credo che altre cose non ci siano da dire, vedete l'impianto abbiamo fatto uno schema molto semplice per il montaggio, c'è l'entrata, il filtro, l'apparecchio, l'uscita e la centralina che mi comanda tutto. L'interruttore di accensione e di spegnimento è logicamente collegato alla presa elettrica normale di casa. Qualsiasi altra cosa potete rivolgervi tranquillamente ai nostri collaboratori che vi diranno anche queste varie formule di condizioni di garanzia a vita perché ripeto è l'unico impianto anticalcare per il trattamento dell'acqua, cioè praticamente l'unico depuratore che usufruisce di una garanzia a vita.